Buonasera mister Mariani, partita difficile contro una grande squadra, risultato che purtroppo non è arrivato. No, vabbè, tanto è chiaro che arriva a standa l'ora delle squadre trattate da arrivare lassù, quindi lo sopravvamo. Una squadra che noi ultimamente c'è un po' di gesta per caratteristiche tecniche e fisiche, però sono contento della mia squadra, al di là del risultato, perché le occasioni più importanti del primo tempo sono state le nostre, il loro sportiero ha fatto almeno due o tre parate importantissime, loro non hanno avuto soltanto l'occasione della commissione regalata, dove il nostro sportiero ha fatto la paratissima, e poi ha trovato questo gol, ci ha sbottato la partita, al secondo tempo ha cercato di sfruttare gli spazi con la loro forza e con la loro tecnica, a provare per rendersi una ripartezza, direi che noi ci abbiamo provato fino alla fine, questo è lo spirito, quello che deve contraddistinguere sempre le prestazioni a lì. Perfetto, ringrazio.